Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram se volete avere a che fare con me, fare due chiacchiere o ancora richiedermi qualche video. Inoltre se vi va potete anche menzionarmi mentre guardate i miei video, mi fa sempre molto piacere. Detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi ragazzi parliamo di un uomo che potreste anche solo riconoscere dal nome se conoscete un po' di storia della c***a organizzata di Milano. Sto parlando di Luciano Lutring, dovete sapere che la sua storia ha ispirato un film di Carlo Lizzani del 1966 intitolato Il Solista del Mitra. In effetti Luciano era un uomo davvero particolare, è stato un pittore ed uno scrittore italiano, ma è anche stato un rapinatore che colpiva principalmente nella Milano negli anni 60. Lo definivano Il Solista del Mitra per la sua abitudine di portare il suo fucile a mitragliatore nella custodia del suo violino. Ma come al solito ragazzi, facciamo un passettino indietro. Chi era Luciano Lutring? Luciano nasce a Trieste, Delvira Minotti e Gnazzo Lutring, un uomo ungherese nel 1937. I suoi genitori per lui avevano già dei piani ben precisi. Sua madre era amante di Beethoven e voleva che suo figlio diventasse un violinista. Luciano quindi da piccolo segue delle lezioni di violino, ma con gli anni il ragazzo si dimostra essere più interessato alle belle donne e alla bella vita che al violino. Da Trieste, Elvira e Ignazio si trasferiscono a Milano e in Via Novara, vicino allo stadio di San Siro, aprono un bar, Latteria. Siamo in una Milano dell'immediato dopoguerra. Ci sono ex partizioni ed ex f***si e in molti girano ancora con la pistola. Luciano quindi vive in questa realtà e si rende conto che molte ragazze hanno un po' il fascino per l'uomo armato, se così possiamo definirlo. Diciamo che anche Luciano voleva tirare la sera un po'. Ovviamente gli piacevano le ragazze e anche tanto. E quindi si procura da un conoscente una pistola, però senza pallottole. Infatti il suo fine non era assolutamente quello di far male a qualcuno. Inizialmente Luciano si limitava a fare un po' il bulletto, specialmente quando andava a ballare la sera nelle ballere dell'epoca. Il clima che si respira è quella di una città ancora scossa dalla guerra appena terminata. Ed alcune persone avevano addirittura paura a girare in alcune zone di Milano. Lo stesso Luciano ammette che effettivamente verso la campagna c'era la miseria e un classico taxista dell'epoca di base usciva sperando di ritornare a casa con i suoi soldi perché per l'appunto c'erano in giro un sacco di ragazzacci per di più armati. Da questo momento Luciano prende ad esempio due suoi cugini, Mario e Piero, che facevano parte di due bande al tempo abbastanza importanti. La sua scalata verso i vertici della mala milanese giunge lenta nel tempo. E l'uomo racconta in un modo forse un po' troppo romanzato come la sua prima rapina sia avvenuta totalmente a caso. Racconta che era il 1957 e sua zia lo aveva mandato a pagare una bolletta della luce. Era un giorno uggioso, di novembre. Luciano comunque sottolinea che andava sempre in giro con la pistola, quella che si era procurato da un conoscente senza però munizioni. Infatti l'arma non era affatto carica. Luciano una volta entrato nell'ufficio si è spazientito, in quanto l'impiegato non gli prestava la minima attenzione. Luciano decide aver aspettato almeno quattro minuti prima di tirargli un pugno sul banco dicendo «Allora, ti muovi o no?». Facendo quel movimento gli si era spostata la giacca e in quel momento l'impiegato gli aveva visto la pistola. Luciano racconta che probabilmente quell'impiegato in passato era già stato derubato e vedendo l'arma ha pensato che la cosa si stesse ripetendo. Quindi ha detto a Luciano praticamente immediatamente «Prenda, prenda!». Luciano però inizialmente non aveva ben capito, quindi gli risponde «Ma prenda, prenda cosa?». Per poi trovarsi in mano un pacco di soldi. In effetti Luciano, quando si è visto l'impiegato dargli in modo così semplice un pacco di soldi, di certo non si è tirato indietro e non ha rifiutato. Gli ha presi e tutto ha avuto inizio da lì. Arriviamo all'anno dopo, nel 1958. Luciano era nella riviera Romagnola, più precisamente a Cesenatico. Era lì con qualche amico, principalmente per sperperare i soldi delle varie rapine. Ma arrivati ad agosto si rendono conto che non hanno più il becco di un quattrino e quindi hanno approfittato dei turisti che lasciavano i soldi in macchina sotto il tappetino per poi andare al mare a farsi il bagno. Quell'estate Luciano ha rubato una macchina che apparteneva a due turiste. Una di loro due abitava a Zurigo, ma era una giovane modella valtellinese, una volta rubata quell'auto Luciano trova nelle valigie abiti decisamente audaci per l'epoca tipo Gépier, corsetti, vestitini di lame e inoltre in uno scompartimento della valigia ha trovato anche delle foto molto belle. Così Luciano ha deciso di riconsegnare tutto alle ragazze e fingendo di aver trovato le loro valigie così per caso. È in questo modo che Luciano ha conosciuto essa, in arte Yvonne, dopo 40 giorni l'ha sposata. La madre di Luciano a quel punto si vede il figlio arrivare con una donna che non le piace tanto, è un po' troppo all'avanguardia. Yvonne era un po' troppo scollacciata e portava dei tacchi a spillo. Quindi la madre di Luciano non ha gradito e l'ha letteralmente cacciato di casa. Luciano però prima di andarsene prende il suo violino nella sua custodia e sceglie sua moglie, Yvonne. È a questo punto che l'uomo ha iniziato la sua carriera da fuori legge. Ha iniziato con furti di motorini, di auto, racket delle macchinette mangia soldi, rapine nei vari negozi e nelle banche. Poi sono arrivati gli anni 60. Luciano a quel punto si spostava tra Italia e Francia. E mentre in Italia viene soprannominato il solista del mitra, in Francia diventa il nemico numero uno. Quello che riesce a sfuggire dalla polizia europea per anni interi. Luciano non ha mai fatto male a nessuno. Rimaneva un bandito, certo, ma uno un po' romantico. Era decisamente diverso dagli altri e infatti è stato definito il ladro gentiluomo. Sicuramente faceva la sua vita da fuori legge, costituita da molte rapine a banche e negozi. Pensate che dal 1958 al 1965 si pensa che l'uomo abbia totalizzato almeno 200 rapine. Tra Francia e Italia la sua figura è diventata leggendaria, così come suo stile di vita, che chiaramente era da latitante, ma non faceva certo finta di non avere soldi. La sua vita infatti era anche composta da belle donne, alberghi di lusso e macchine costose. La polizia d'altronde lo cercava nei bassi fondi, lo immaginavano come una persona mal vestita, trasandata, magari con la barba lunga. Mentre nel frattempo Luciano se la spassava negli alberghi di lusso, con ricchi industriali e principi della costa azzurra. Insomma, la polizia era totalmente fuori strada. Inoltre Luciano sostiene che nel periodo in cui si è spostato a Parigi, in Francia faceva spesso rapine, lasciando però mazze di rose. I giornali dell'epoca scrivevano di un bandito gentleman che ruba 300 milioni in gioielli per poi lasciare un mazzo di rose alla commessa. È questo, a mio parere, il momento in cui gli atti di Luciano, seppur gravi, venivano etichettati un po' come romantici. Lui stesso è riuscito, a mio parere, a romanticizzare tantissimo i suoi crimini. Onestamente mi viene in mente la figura di Neil Caffrey in White Coward. Sicuramente Matt Boomer è un gran bel ladro, non c'è dubbio. Ma in un certo senso, anche lui ha il suo stile in quella serie tv. Nonostante sia un ladro, ce lo fanno vedere come un uomo galante e a modo. E quindi me l'ha decisamente ricordato. Ho sentito, peraltro, un'intervista a Luciano che racconta, a mio parere, un aneddoto particolare e comunque abbastanza divertente. Lui racconta che era solito frequentare dei nightclub e per approcciare con una ballerina che gli piaceva le ha regalato una Ferrari come gesto d'amore. L'uomo dice esattamente con questo tono. Il cuore c'era, eh. Purtroppo la Ferrari era rubata. Insomma, ragazzi, era proprio un uomo particolare questo Luciano Lutring, che, peraltro, aveva anche fatto una stima del suo bottino totale. E parliamo di 30 miliardi di lire dell'epoca, ragazzi e ragazze. Ma, per tutti, arriva una fine. Luciano è stato arrestato il 1 settembre del 1965 a Parigi, in un conflitto a fuoco con la polizia francese. Se i colpi di pistola lo feriscono in sei punti del corpo diversi e, in questo modo, Luciano dà il via alla sua esperienza in carcere. È stato condannato per 22 anni ai lavori forzati. Quindi, a quel punto, l'uomo ha ammesso la sua sconfitta e si è trasformato in un detenuto modello. Il carcere era molto duro. E Luciano ha passato anni in carcere a Parigi, in totale isolamento. Tuttavia, sostiene di non aver mai avuto problemi con le guardie perché rispettava le regole e le rispettava. E quindi le guardie rispettavano lui. Luciano, però, dice anche che gli è servito molto questo periodo di detenzione perché ha lavorato per il Ministero dell'Interno, facendo carte per il catasto topologiche e geografiche. Peraltro, Luciano aveva anche uno stipendio abbastanza elevato, però il carcere gli detraeva più o meno la metà di ciò che guadagnava. In questo modo, Luciano ha iniziato a interessarsi alla scrittura e alla pittura. In Francia hanno permesso all'uomo di leggere, di scrivere, di dipingere, di studiare. Sostiene di essere l'unico detenuto in Francia a cui hanno concesso una macchiera da scrivere. Luciano viene graziato dal Presidente della Repubblica Francese, Georges Pompidou, e quindi è tornato in patria, presso il carcere di Brescia, dove viene nuovamente graziato nel 1977 dal Presidente Giovanni Leone. Quindi Luciano sconta la sua pena e viene rilasciato. Negli ultimi anni di vita ha scritto parecchie opere e ha dipinto parecchi quadri. Infatti ha esposto le sue opere in molte mostre, sia collettive che personali, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Anche le sue opere letterarie non sono poche. Luciano ha scritto ben sei libri, l'ultimo pubblicato nel 2008. È venuto a mancare il 12 maggio del 2013, a Darona, una cittadina che si trova sul lago maggiore, nella provincia di Novara. Aveva 75 anni. Detto questo ragazzi, io ho finito di spronocchiare in questo video. Spero che questo video possa essere stato per voi di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi. Mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico che serva. Noi ci vediamo presto.